Rulli, ne ha facoltà. Lei ha la parola. Grazie, Presidente. Quando entriamo per la prima volta qui alla Camera dei Deputati, ci viene dato il regolamento, ma più nello specifico, ci viene dato la Costituzione della Repubblica Italiana e il regolamento della Camera dei Deputati. In merito a questo provvedimento voglio parlare sia della Costituzione che del regolamento. La Costituzione, perché noi oggi discutiamo un provvedimento, quello del Green Pass, che non è un Green Pass generale, non è il Green Pass a cui abbiamo assistito in Europa, non è il Green Pass a cui abbiamo assistito anche in altri Paesi europei. Non è una semplice certificazione dell'avvenuta vaccinazione o dell'avvenuto tampone nelle 48 ore. No, è qualcosa di più. È un lascia passare o meno ad un diritto, quello del lavoro. Peccato però che l'articolo 1 della nostra Costituzione reciti al comma 1 l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Che cosa hanno pensato i nostri costituenti quando hanno formulato l'articolo 1 comma 1? Beh, vi fu un grosso dibattito, addirittura ci fu una parte delle forze politiche dell'epoca che volevano chiamare la nostra Repubblica una Repubblica dei lavoratori. Invece si trovò un compromesso, un compromesso che era quello di legare la parola democratica alla parola lavoro. E in questo collegamento tra democrazia e lavoro sta il fatto che la questione democratica è una questione di lavoro. E allora laddove il lavoro sia subordinato a un provvedimento come quello del Green Pass che è previsto da legge e non da Costituzione. Qui davvero noi troviamo la fragilità della nostra democrazia odierna. La troviamo peraltro tante volte in quest'Aula, come per esempio, e qui arrivo invece al regolamento, nel fatto che noi ormai stiamo violentando il nostro stesso regolamento della Camera dei Deputati assistendo a fiducia su fiducia su fiducia su fiducia su fiducia che portano in realtà alla frustrazione del ruolo dei singoli parlamentari e anche alle prerogative costituzionali a cui ogni singolo parlamentare è chiamato. Ma venendo oltre, sta di fatto che noi oggi stiamo discutendo, peraltro solo in maniera generale, perché non potremo andare ad esaminare articolo per articolo, emendamento ed emendamento, essendo questo precluso per l'ennesima fiducia che il Governo apporrà, stiamo discutendo del fatto che il principio, il diritto del lavoro oggi è subordinato invece al Green Pass. E non mi si dica che nella alternativa tra vaccino e tampone c'è autenticamente quella libertà di accedere al lavoro. Non è così. Perché il tampone non è gratuito. E non essendo gratuito rappresenta una menomazione del reddito di ciascun cittadino che, volendo far rispettare il principio di libertà di vaccinazione, che in questo Paese, fin quando non c'è una maggioranza che istituisce l'obbligo vaccinale, c'è, sussiste e va difeso, ecco, nel momento in cui cerca di difendere quel principio, vede frustrato un altro, quello appunto dell'accesso al lavoro. Io mi voglio rivolgere a tutte quelle persone che magari ricevono mille, 1200 euro al mese per poter lavorare. Certo, non sono persone che vediamo qui in quest'aula, ma che stanno fuori da quest'aula e che contano molto di più delle persone che sono in quest'aula. Perché? Perché il lavoro di quest'aula dovrebbe essere formulato, pensato, ragionato, organizzato, proprio in funzione di chi sta fuori dal palazzo. E nel pensare a loro, penso a quei lavoratori che appunto devono vedersi mensilmente ridurre lo stipendio di 225 euro pur di andare a lavorare, pur di esercitare due propri diritti a livello costituzionale, per cui anche appunto il diritto sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione. Il lavoro a quelle persone va garantito e va garantito nella sua pienezza. Al lavoro corrisponde un reddito, uno stipendio, e quello stipendio deve essere nella libera disponibilità di ciascun cittadino e non deve essere invece alterato sulla base di un obbligo subdolo, perché non è coraggioso questo provvedimento subdolo nei loro confronti. Ebbene, che cosa pagano queste persone? Pagano il fatto che questa classe politica che governa questa nazione è fortemente ipocrita, perché non riesce a mettersi d'accordo sulla campagna vaccinale, in particolare sul fatto se debba essere o meno obbligatorio il vaccino, e allora fa pagare le divisioni che ci sono all'interno di quest'aula, scaricandone sull'ultimo cittadino. Questo fa. Questo è quello che rappresenta questo provvedimento. Questo provvedimento non è altro che lo specchio delle divisioni di questa maggioranza. Non è altro che la frustrazione a cui questa maggioranza, finta, plastica, porta ai singoli cittadini. Questo è. E infatti, se così non fosse, oggi noi staremmo discutendo di altro. Completamente di altro. Ora, che tutto questo avvenga con un provvedimento che al contempo acquisisce la fiducia di questa maggioranza a seguito della posizione di fiducia in Senato. E questo stesso provvedimento, nello stesso tempo, sia oggetto di un'ennesima fiducia anche in questo ramo del Parlamento, ovvero che questo provvedimento venga completamente, soltanto approvato solo grazie al ricorso al voto di fiducia, se questo governo confermerà le intenzioni e le indiscrezioni espresse, è quello che c'è ancora di più grave. Perché vedete, noi ci possiamo forse dividere su il provvedimento in sé e nel merito, ma per dividersi bisogna discutere. E invece qua è preclusa ogni tipo di discussione. Viene precluso. Ci troviamo quindi in una situazione, l'ho già detto prima, di frustrazione, che non è degna di quest'Aula. Non è degna di quest'Aula, non è degna della storia di questa nazione, non è degna della storia costituzionale di questa nazione. E concludendo, perché non voglio essere troppo lunga nel ragionamento, il motivo per cui noi oggi abbiamo una Costituzione che recita proprio l'articolo 1, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è che prima di queste scelte, prima dell'Italia costituzionale, vi era genericamente in Italia e nel resto del mondo, l'idea per cui essere legati al lavoro, essere lavoratori, era motivo di esclusione dalla vita politica e dalla vita sociale. Era motivo di esclusione. Perché lavorare era un qualcosa che era rimesso alle masse umili e non era invece un percorso di partecipazione alla vita sociale. Era motivo di esclusione. Gli ultimi lavoravano. E la società, anche la partecipazione della vita politica, era invece legata a un'altra cosa, il privilegio. Con l'introduzione invece dell'articolo 1 della nostra Costituzione, si rovescia questo principio e il lavoro diventa motivo di inclusione. Ebbene, ora, con questo provvedimento, a me sembra che di nuovo si rovesci la clessidra e si torna in tempi molto lontani, dove ancora una volta è chi è privilegiato, chi può permettersi di lavorare o chi può permettersi redditi molto alti, da non sentire neanche quei 225 euro che comporterebbe il pagamento del tampone. Ecco, sono quelle persone ad essere nuovamente privilegiate, mentre le persone che lavorano, le persone umili, le persone che hanno uno stipendio per il quale quella cifra pesa, e pesa su se stesse, pesa sulla propria famiglia, rappresenta invece un motivo di differenzazione rispetto al resto della società. Questo è il motivo per cui questo provvedimento è fortemente lesivo. Non parlateci della necessità di introdurre questo Green Pass, addirittura ai lavoratori il Green Pass più restrittivo d'Europa, con la necessità pandemica. Perché non è così. Perché non siamo più in fase di emergenza, siamo in una fase di gestione della pandemia, e ancor più nella fase di gestione è necessario trovare un equilibrio tra i vari diritti. Voi oggi mettete con questo provvedimento il peso in maniera eccessiva su alcuni aspetti, tralasciando completamente invece il diritto al lavoro. E allora a quelle famiglie, a quelle persone che si trovano in queste ore, che forse voi non ascoltate, che magari non sono neanche andate a manifestare, anzi io immagino sicuramente, perché avranno come prima preoccupazione quella di far quadrare i conti in questo momento, tra le difficoltà oggettive che la pandemia ha portato e le difficoltà che voi restate, gli state consegnando, ulteriori. Ecco, a quelle persone io dico non siamo tutti uguali in questa Aula. Perché non è vero che non c'è nessuno che si sta opponendo a questo specifico provvedimento, a questo specifico aspetto del Green Pass. Fratelli d'Italia è contraria, e lo voglio dire nettamente, a subordinare il diritto al lavoro alla lettura di un codice a barre. perché questo è quello che sta avvenendo e rappresenta peraltro non una necessità nei confronti del momento attuale, ma anche per il futuro, perché questo provvedimento rappresenta un pericoloso precedente per gli anni che verranno e per le situazioni che si presenteranno di fronte a noi. A quelle persone io dico Fratelli d'Italia, è al vostro fianco. Lo ringrazio.